e chi non scialta muore domani chi non scialta sera ragazzo non ci provare non ci provare non ci provare non ci provare dai su marconi dimmi non ci provare dai su dai che metto il link del tuo canale in descrizione ma ma faccina che ha un canale stai facendo stai vloggando per il tuo? si da me ragazzi nei commenti voglio il maggior numero possibile di commenti con l'hashtag valerico no ragazzi voglio l'hashtag valerico nei commenti confite in voi siamo qui con un vlog bellissimo si effettivamente è un vlog è l'unica cosa che sta detto fino al momento comunque signori allora ecco appunto siamo qui per questo vlog video racconto dell'esperienza che viveremo magnifica cioè perché comunque autostima già so che sia una cosa bella dello youtuber talent bello bellissimo siamo in pakistan casetta mattei ho scritto la guardate casetta mattei quindi oraccio non è colpa mia se mi sono dimenticato la sd della telecamera cioè ragazzi dovete capire io sono venuto fino a qua con la telecamera appena sono uscito di casa ho controllato che non c'era la scheda quindi la telecamera c'è la scheda no e devo vlog con l'iphone sono arrivati al centro commerciale stiamo tipo vloggando tutti è bellissima sta cosa e ci stiamo per dirigere all'evento vabbè parla lei in realtà non sappiamo dov'è questo evento però sappiamo che è al centro commerciale quindi in qualche modo ci arriveremo prima o poi no? ma secondo me devo salire non so se quei dipendenti corrispondono al palco ma ne dubbilo sapete che l'unica persona che si sente triste in questo momento è lei perché non sta riprendendo nulla e non sa cosa perde la suite guarda che i miei vlog sono più famosi dei vostri che cosa vuoi? il vero è che non li fa ragazzi allora io adesso vi farò vedere un'anteprima interessante stiamo vloggando tutti e due guarda che cosa che fa facciamo quelli che stanno sul palco? ragazzi siamo qui ragazzi siamo qui con tutti i fan grazie mille non pensavo... questa era la copertina del video eravate troppi fare la foto con tutti è stato impossibile ragazzi voi non lo sapete ma qui dentro c'è una gallina non lo sapete c'è una gallina vero? questa è la strada giusto e io la percorrerò io la percorrerò così via 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 che percorrite? la strada vai guarda questo è un nuovo modo grazie a te com'è che funziona il passo? com'è che funziona il passo? va così si ok quindi è tipo ci provo venga no non funziona è che sono più scoordinato quindi mi può votare come io manchialela manchialela aspetta, aspetta sconfondabile io faccio canto per cristo perchè degli ultra e degli ultra insieme no aspetta aspetta facciamo un po più piccoli canto per cristo canto per spisi perchè degli ultra perchè degli ultra alleluia aspetta aspetta allora ragazzi una preghiera per tutti canto per cristo canto per cristo perchè degli ultra alleluia 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 dai merda 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 uno due tre merda 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 la cosa bella è che stiamo tutti contro merda merda che fa fatica a crederci ma è sempre lì la nostra gallina io non ho mai visto ripeto la nostra del genere nella mia vita merda 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 mi sono mi ha pianto di una donna quanto è buono l'odore della donna quanto è buono l'odore del vento dentro lo sento dentro lo sento quanto è buono l'odore del lumba Quando c'è il sole che è sotto rimbomba Come rimbomba lodo e le loro bra Come rimbomba, come rimbomba E il settimo concorrente, la parola chiave che gli ha permesso di arrivare a molti iscritti è il coinvolgimento Ama fare la telecronaca e strapparvi una risata con i suoi divertimenti appunto all'interno dei suoi video Facciamo un bel applauso a Federico Marconi Dai FN Raga io mi sono appena esibito, ora tocca a lei Però poi vi vedremo le votazioni Dai Ma raga se vedo tutto questo movimento qua dietro è perché hanno caricato Stanno caricando le foto Intanto c'è Lilli che si invoca Stanno caricando Dica tu, dica tu Come funziona la votazione? La votazione? La votazione Non lo so Ah ah, te lo dico, visto che non lo sai Adesso io lo sto mettendo le foto nostre Sulla pagina Facebook E ovviamente Tu adesso vai, la pagina Facebook Quindi ti inviata la mia foto e io vinco Ok, va bene Quindi questo ti inviata la tua foto così lui vince La vincitrice ragazzi E chi non salta amore domani Chi non salta sera ragazzi Chi non salta amore domani Chi non salta amore domani